Ueeh, non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Ueeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, il Fortabyte di oggi, il numero 34, si trova tra forchetta e coltello, semplicemente vicino a Lande Letali, ecco qua, dove c'è tutta la gente che si spara ragazzi, in mezzo al condotto, troverete il numero 34, lo prendete e lo avete fatto! Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video, mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live, ciao!